Ciao a tutti, mi chiamo Adi, come dice la mia pagina, che Adi sarebbe l'abbringazione del mio nome. E niente, sono una ganese che vive in Italia da quasi 12 anni con la mia famiglia, studia all'università intermieristica e tra poco vedrei che mi rendo l'ora. Ieri, no, se mentre studiavo, ho avuto questa idea di fare la pagina YouTube, perché ovviamente quando tu studia non ho le idee più interessanti, più banali, tutto quello che vuoi, tranne studiare. E niente, adesso sta, farò questa pagina, in cui parlerò un po' di me, della cultura ganese, per farlo conoscere di come gestisco i miei capelli naturali e niente, parlando dei capelli naturali. Mi sono tagliato i capelli, raggata proprio a zero, poi farò vedere le foto, circa un anno e cinque mesi fa. E' stata una decisione improvviva, cioè non ne parlava, ne parlava, non era abbastanza decida. Però vedevo un po' di foto, video, cos'è, sì, queste ragazze sono troppo belle, con le rotazioni naturali, dai, sa che lo faccio anch'io, l'ho fatta anch'io. All'inizio, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà a gestirvi, perché trovo un spacco di video, però che erano, tutti i ragazzi usavano prodotti dall'America, io ho qualità, l'inizio ho il modo che li trovo, e niente. Quindi, dalla mia pagina, cerco di aiutare anche gli altri africani in Italia, che magari anche loro vorrebbero, però non stanno magari come gestivi, darò quanto so io e ben accesso anche quanto faccio se vuoi. Spero di mettere presto qualche video e spero soprattutto che vi troverete interessanti. Venite in tanti, vi farebbe piacere, ciao a tutti, un bacione. Ciao a tutti.